salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video partita attesissima torniamo con michael tal una partita devastante prima di tutto vi devo ringraziare perché nell'ultimo video di tal abbiamo superato i 6.000 mi piace quindi come vedete se volete potete e allora io oggi ho selezionato per voi una partita strepitosa una partita magnifica unica nel suo genere prima di iniziare anche questa volta vi chiedo 5.000 mi piace per un prossimo video su tal dai ragazzi non molliamo grazie a tutti per il vostro supporto iniziamo ok eccoci qui siamo nel 1987 a reykjavik in islanda si affrontano con i pezzi bianchi michael tal con i pezzi neri gioca il grande maestro joan airtarson una partita unica questa perché è spettacolare ma giocano anche tanta teoria tal apre con pedone 4 airtarson risponde con e5 segue il cavallo f3 cavallo c6 alfiere b5 partita spagnola la madre di tutte le aperture pedone a6 per airtarson tal ritira l'alfiere in a4 segue cavallo f6 arrocco alfiere e7 come vedete sono mosse teoriche queste sono le mosse migliori ancora oggi torre 1 per tal difende il pedone in e4 airtarson spinge in b5 tal gioca alfiere b3 e il nero mette il real sicuro con arrocco segue pedone c3 tal prepara d4 airtarson gioca d6 h3 per tal impedisce mosse come alfiere g4 cavallo g4 queste sono partite che vengono giocate oggi da nepo karlsand migliore al mondo cavallo in a5 tal ritira l'alfiere in c2 segue c5 pedone d4 ecco qui che tal occupa il centro airtarson gioca donna c7 tal continua con cavallo d2 sviluppa i pezzi alfiere d7 per il nero incredibile ma vero ragazzi sono tutte mosse dal libro quindi sto andando velocemente cavallo f1 tipica manovra tal gioca cavallo f1 per giocare cavallo g3 porta il cavallo sul lato di re per cercare poi di attaccare airtarson cattura in d4 tal riprende di pedone segue torre c8 il nero attacca l'alfiere in c2 tal lo salva con cavallo e3 da notare mossa teorica e il nero ritira il cavallo in c6 segue pedone d5 tal prende spazio sulla scacchiera attacca il cavallo il cavallo va in b4 tal gioca alfiere b1 e l'avversario continua con a5 mamma mia teoria infinita pedone a3 cavallo a6 e tal la sa ancora gioca b4 questa è ancora teorica pazzesco ragazzi non ci posso credere e questa è una trappola micidiale attenzione l'avversario qui gioca g6 ma perché qui non si può catturare prima domanda perché sembra che il nero qui guadagni un pedone e no dopo alfiere d2 il cavallo in trappola non può venire in c6 perché c'è il pedone quindi il nero sta per perdere un pezzo assurdo tal la sapeva quindi in questa posizione l'avversario gioca g6 quindi anche ayerson la sapeva partita di alto livello tal continua con alfiere d2 comunque difende b4 il nero cattura in b4 segue pedone per b4 donna in b7 tal gioca alfiere d3 sviluppa l'ultimo pezzo sta per collegare le torri cavallo in c7 per il nero e tal continua con cavallo c2 questa è una delle poche partite di tal in cui vediamo tal giocare sul lato di donna però vi prometto che finirà in una maniera spettacolare pure questa partita airtarson salta con il cavallo in h5 probabilmente vuole prendere spazio sul lato di re tal gioca alfiere 3 minaccia di entrare in settima traversa il nero allora deve giocare torre a8 tal continua con donna d2 collega le torri segue torre per a1 cavallo per a1 tal si prepara a venire in b3 e poi magari in a5 attaccando la donna e cercando di entrare in c6 itarson qui gioca pedone f5 segue alfiere h6 la migliore cavallo g7 cavallo g7 apparentemente un errore e tal qui inizia a prendere vantaggio ma è un vantaggio posizionale ve l'ho detto questa è una partita particolare cavallo b3 per tal l'avversario gioca f4 interrompe la comunicazione donna e alfiere tal salta con il cavallo in a5 attacca la donna la donna si sposta in b6 e tal gioca torre c1 la mossa migliore ci stiamo avvicinando al momento critico attenzione torre a8 per il nero tal gioca donna c2 attacca il cavallo in c7 il nero lo ritira e tal gioca donna b3 segue alfiere f6 cavallo c6 tal fa di tutto per cercare di attivare i suoi pezzi il il nero invece è messo molto bene in difesa sicuramente conosce tal conosce le qualità di tal d'attacco e ha chiuso il gioco qui gioca a cavallo in h5 tal continua con donna b2 segue alfiere g7 il nero vuole anche cambiare i pezzi quindi questo proprio un grande maestro forte tal accetta ovvero alfiere per g7 re per g7 momento critico della partita non so cosa giochereste voi in questa posizione ma tal qui se ne esce con una mossa bestiale ok il centro è chiuso lo devo aprire a tutti i costi devo aprire il centro quindi devo sacrificare perché questo sapeva fare tal no il mago di riga no fuori di testa torre c5 sacrifica una torre netta ragazzi un bellissimo sacrificio mossa geniale non potevano non dargli due punti esclamativi qui veramente assurdo mamma mia e il nero addirittura non cattura ha paura di catturare no vabbè vi mostro brevemente se il nero avesse catturato qui seguiva cavallo per e5 con minaccia di attacchi di scoperta e il nero deve stare attentissimo la mossa migliore per il motore è donna a6 e segue il cavallo per d7 scacco il problema è che il bianco ha un fortissimo attacco con i due cavalli e la donna più due di vantaggio quindi dopo torre c5 il nero gioca donna a6 tal continua con torre per b5 guadagna intanto un pedone e minaccia attacchi di scoperta sulla donna qui calcola anche che donna a1 scacco donna per torre per rh2 è vantaggioso per il bianco e infatti il nero non gioca questa variante ma continua con cavallo c7 che è ancora peggio la mossa migliore sarebbe stata alfiere per cavallo per recuperare indietro almeno il pedone gioca cavallo c7 il grande maestro inizia a sbagliare tal continua con torre b8 attacco di scoperta sulla donna attacca la torre ma qui di fatto sta sacrificando un pezzo perché la torre in a8 è difesa dal cavallo quindi sta sacrificando un pezzo a tutti gli effetti ajarsson cattura e ora tal inizia a inventare gioca una delle combinazioni più belle che io abbia mai visto cavallo per e5 sacrifica anche il giusto cavallo cioè no vabbè ragazzi lascia la torre in presa sacrifica un pezzo sta attaccando la donna e sta attaccando il re ricordatevi tal puntava sempre il re donna di uno scacco per salvare la donna rh2 per forza torre a1 come la mettiamo perché il nero sta minacciando scacco matto in una mossa se tal dovesse sbagliare qualcosa seguirebbe scacco matto allora vediamo se ha ragione tal tal gioca cavallo g4 scacco cioè non cattura perché cavallo per d7 avrebbe dato vantaggio al nero infatti dopo re h6 non ci sono più scacchi assurdo quindi tal capisce che non deve catturare l'alfiere genio genio totale gioca cavallo g4 scacco il nero continua con re f7 tal gioca cavallo h6 scacco beh tal qui era molto bravo insomma ci sapeva fare caccia re re in e7 da notare che non può entrare di donna perché c'è il cavallo anche se in realtà l'entrata di donna sarebbe comunque una mossa vincente tuttavia tal gioca cavallo in g8 scacco e l'avversario decide di abbandonare ma vediamo perché abbandona perché tal qui ha calcolato una cosa veramente bella ok cosa bisogna fare qui con il nero unica mossa re in f7 e tal avrebbe chiuso in bellezza con cavallo g5 scacco matto due cavalli pazzi due cavalli completamente folli che vanno a dare scacco matto al re avversario e anche in questa partita una partita difficile hanno giocato 20 mosse di teoria il nero ha chiuso il gioco ma tal voleva aprirlo a tutti i costi e ci è riuscito gli ha dato addirittura scacco matto è riuscito ad esprimere la sua qualità migliore ovvero l'attacco spero che questa partita vi sia piaciuta secondo me è particolare questa non come le altre che durano poche mosse questa dura un po di più io vi ringrazio per la visione vi ricordo di mettere mi piace 5 mila like prossimo video su tal ciao ragazzi